Di fatto il vino è forse la bevanda che è più in eterno di venire in assoluto. Ma l'associazione è perfetta perché come un grande vino schiude ogni passare del tempo dei mondi così ogni opera viene sedimentata ai suoi tempi per esprimere completamente i suoi significati. A questo quadro ho abbinato il ninfato di Sensi che è un vino senza solfiti aggiunti e questo perché fa parte della linea green quindi c'è una grande attenzione alla sostenibilità, al basso impatto ambientale e infatti il ninfato viene da che cosa? Dal fatto che in diverse zone della Toscana che cosa succede? Che c'è questa farfalla che si chiama ninfa del corbezzolo che va a succhiare gli acini più succosi e soprattutto quelli che si trovano in un ambiente sano e naturale. Mi sembra un accostamento perfetto perché il mio schiude rappresenta un ritorno alla purezza e all'origine dopo aver attraversato un'urbanità e quindi un periodo di industrializzazione che nel nostro caso ha coinvolto anche il vino quindi un ritorno alle origini così come fa la famiglia Sensi. A che cosa brindiamo? All'arte, al vino? Alla madre terra.